il paesaggio non inteso come la cartolina che portiamo dai fine settimana a casa e quindi pensiamo che debba per forza essere qualcosa di bello, ma vogliamo raccontare il paesaggio quello che realmente è, cioè come luoghi di vita, è qualsiasi luogo in cui noi esprimiamo la nostra vita che è il paesaggio, ma essere confedevoli che il paesaggio è tutto, soprattutto quelle cose che meno ci piacciono. Secondo te Pasquale, cos'è il paesaggio? Ehi, il paesaggio è... 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 Grazie a tutti. 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 Non c'è soldi, però c'è tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.